Sì, tanto poi sono dieci minuti di strada, eh? Dopo ci stiamo a entrare qua. È uranio qua e vissza. Dove se non è successo a tenere, vuol dire? non 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 si si storta è così così va bene non riesci un po' di diverso di là esatto dove prende chi scotch di carlo si l'ha creato questo progetto è fatto dagli studenti del liceo musicale di Brescia Veronica Gambara ed è stato diciamo creato con l'intento di cercare di far avvicinare gli studenti al rapporto che c'è tra la tecnologia e la cittadinanza quindi i rapporti con l'ambito sociale l'ambito culturale e artistico non 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 ne non 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 persone si crea una bavella e poi cominciate a girare tipo concessione inevitabilmente un chasseur sachant chasser, s'est chassé sans son chien constitution chasseur sachant chasser, s'est chassé sans son chien constitution 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 condition chasseur sachant chasser inoltre chasseur sachant chasseur ci esion No, 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 no Mi raccoglione, mi raccoglione, mi raccoglione e mi raccoglione. Mi raccoglione, mi raccoglione, mi raccoglione, mi raccoglione. Mi raccoglione, mi raccoglione, mi raccoglione, mi raccoglione. Mi raccoglione, mi raccoglione, mi raccoglione, mi raccoglione. Mi raccoglione, mi raccoglione, mi raccoglione. Mi raccoglione, mi raccoglione, mi raccoglione.